musica vai 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 esageriamo stamattina vinciamo musica express vai vai occhio come pioggia vai vai signorine mi fate sentire l'urgo grazie la voglio più forte allora pronti vai musica express live fantastico musica mi piace così dai ma mi piace così lì sopra lo facciamo accoltare ora mi vediamo fiato dai allora facciamo una breve pausa allora prima di cominciare ad esagerare mi fate sentire l'urgo che cos'era quello ho detto l'urgo più forte dai ok 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 musica ok 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 Sì, siamo pronti ragazzi, per favore, cominciamo signorania, vediamo il panico, un po' di metto, un po' di metto, un po' dal basso, un po' della linea, si rimuove. Siamo in arriva ragazzi, di nuovo ballo!